Ciao a tutti! C'è... c'è un aggiornamento per voi. Sì, insomma, qualcosa che sta succedendo nel Commonwealth. Sapete, quella vecchia nave... quella che c'è in centro, arenata sul tetto dell'edificio? Beh, se fossi in voi, ne starei alla larga. Voglio dire, più di quanto già non facciate con tutto il resto giù in centro. Che dovrebbe essere... beh, dovreste... Beh, è incastrata nel fianco di... Beh, di un altro edificio in centro. Ci sono ucciso! Ci si aspetta da... E che ci posso fare? Ecco, questo è quello che è successo. Ora... beh... Magari è il momento di mettere un po' di musica, eh? Sheldon Allman ci parla della sua ragazza in... Roll Out Through the Fallout. Ma se lei era così importante per lui... Perché non erano insieme quando è successo? Ehm... forse... bah... Forse ci sto ragionando su troppo. Mi amriccio? Sost barbino dove la sua ragazza in... 진행o uno... Perchисci la brabino 23 Come una... un'altro è un'altra inizia. Perchisci la brabino 23 Come una Presta in... Perchisci la brabino 23 Come una destra in... Perchisci la brabino 23 Come una Hi ... Signora... Anche a urli... Mila gente deve fare questo. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.